Andiamo con Kyle Wins First of all, congratulations to Brindisi They're a very tough team They have great players, great coaches and great fans So congratulations to them Because this was not easy And secondly, I'm just happy for the city of Nantir Coach Pascal and my teammates Because we've worked very hard in the offseason To prepare for something like this And I'm just proud of the way that we overcame adversity in the fourth quarter Because those are some of the toughest fans I think I've ever played in front of But I'd like to give credit to my coaches and my teammates Innanzitutto congratulazioni a Brindisi A buoni giocatori, un ottimo allenatore E dei grandi fans Non è stato facile e contento per la città di Nantir Per l'allenatore, per il lavoro Hanno lavorato tanto e hanno lavorato bene Nel quarto quarto hanno vinto la partita E congratulazioni a Brindisi Ci sono domande? No, possiamo procedere con una domanda Grazie 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 Non, non, non. Non, non, non. Ok. Ok, tu puoi andare? Mi impressione è che siamo già molto felice di partecipare al finale. Quindi siamo davvero satisizzati per avanzare la quattro finale. Come ha detto Kyrips, ha detto che è stato una grande serie. Come ha detto Kyrips, è stata una buona squadra. 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 È stata una buona atmosfera con i nostri amici. E, ovviamente, per una squadra come noi, con due due squadra, non c'è una buona squadra. Non c'è una buona squadra. E noi stiamo in una buona squadra, quindi è la migliore cosa che può succedere per noi oggi. e i nostri amici. E noi non ci si stiamo iniziando. Chessimo, non ci stiamo iniziando. Non ci sono certamente 6 punti. E noi stiamo iniziando la frenzia. E noi stiamo iniziando per noi. con l'equipe di Brindisi, con cui abbiamo fatto due matchs in Italia, una buona fin di saison in Italia e spero di fare buoni play-offs per noi. E vi auguro buona vita per l'inizio di Brindisi e, spero, i play-offs nella competizione. Buona squadra, un'ottima atmosfera e la vittoria è chiaramente la cosa migliore che potesse capitare questa sera. Non hanno mollato anche quando erano sotto di 6 punti e hanno continuato a lottare e hanno portato a casa il risultato. Un in bocca al lupo a Brindisi per la fine della stagione e un in bocca al lupo per le partite in campionato. Ci sono domande? No, ma non è così. Grazie. Ok, grazie.